Inizia, grazie alla nostra televisione, una serie di trasmissioni che hanno a tema l'Agenda 2030 con gli obiettivi che l'ONU ha dato alla realtà mondiale da raggiungere per migliorare la nostra situazione. Direi che il cuore di tutti questi obiettivi è la vita umana, è la vita sul nostro pianeta e la qualità di vita sul nostro pianeta, che su vari fronti ci sono 17 obiettivi potrebbe essere migliorata con l'impegno di tutti. E per parlarne concretamente e non soltanto con orizzonti mondiali è interessante cogliere che cosa nel nostro territorio aretino, in Toscana e nell'ambiente aretino stiamo vivendo e stiamo camminando su questi obiettivi e sul migliorare la qualità della vita nella nostra terra e nel nostro territorio. Le trasmissioni che vengono presentate e che potremo seguire ci aiuteranno a scoprire nella concretezza i passi che stiamo facendo e questo ci offre un'analisi della situazione, ci aiuta a individuare gli obiettivi ancora da raggiungere, gli strumenti necessari e fa maturare la consapevolezza da un cammino da compiere. La comunità cristiana, la Chiesa nel nostro territorio, ha il compito di partecipare al raggiungimento di questi obiettivi contribuendo a migliorare la qualità della vita umana e noi siamo certi, siamo convinti che il Vangelo è vita buona, è offerta di vita buona e tradurlo nella vita della Chiesa e della società di oggi è compito affidato alla Chiesa, allora dobbiamo partecipare alla realizzazione di queste strategie, ma per vivere, per la vita umana, per il nostro pianeta e per il nostro futuro, per chi verrà dopo di noi. Allora prendo a prestito quello che è una delle immagini classiche degli scout che hanno a cuore il cammino dell'umanità e del mondo, un po' come tutti noi, dove l'invito agli scout è quello di lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Ecco, penso che questo sia un invito e uno sguardo che può far bene a tutti e allora a tutti noi, a tutti voi che ascoltate e a me per primo ci diciamo, siamo chiamati a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato.